ok come andiamo? di qua che panoramica la pineta la pineta la pineta la pineta che bello qua, c'è una strana atmosfera spettacol 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 questo è il passo tacco il peccato che è nuvoloso panoramica brallo spessacu è qui dove si va come ti va? va bene? e questo favo? si beh bisogna andare avanti e andiamo sulla strada del castrello grazie